Questo festival deve e vuole essere più di un hacker mess, perché ci troviamo in un periodo davvero importante per il nostro paese, dove per affrontare le sfide collegate ai grandi cambiamenti bisogna lavorare tutti insieme, facendo squadra con i comuni, le province autonome, le regioni e lo Stato, proprio anche nell'applicazione del principio di sussiderità e di leale collaborazione. Noi crediamo che le regioni siano valore aggiunto, soprattutto quando si tratta di affrontare le tematiche collegate alle infrastrutture, ai servizi, alle prestazioni del pubblico, ma anche quando si tratta di affrontare per esempio la grande sfida del cambio demografico. Sarà un ruolo anche fondamentale delle regioni anche adeguare tutto il sistema pubblico alle nuove esigenze.